Doveva occuparsi della madre anziana che soffriva di una grave patologia neurologica e invece ha cominciato a prendere i suoi risparmi senza nemmeno provvedere a pagare la retta della struttura dove era ricoverata. Per questo un uomo residente a Monte Calvo in Foglia è stato condannato in primo grado per il reato di peculato, commesso dopo essere stato nominato amministratore di sostegno della donna. La Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione del Tribunale, ha eseguito la confisca per equivalente della sua abitazione. Infatti dal 2013 al 2016 aveva sottratto alla madre oltre 27.000 euro, accumulando nel contempo un grosso debito verso la struttura che accoglieva l'anziana. Ed era stato questo problema ad aver spinto i servizi sociali ad attivare l'autorità giudiziaria che a sua volta aveva affidato gli accertamenti del caso alle fiamme gialle. I finanzieri sotto la direzione della Procura della Repubblica e dopo scrupolose indagini anche bancarie sui conti dell'uomo sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. Il Tribunale, che ha accolto la tesi della Procura, lo ha condannato disponendo il sequestro dell'immobile. La sentenza è stata pienamente confermata in appello.